L'epigramma 38 del secondo libro degli epigrammi di Marziale ha come protagonista negativo il poverolino che è un bersaglio polemico frequente del nostro Marziale. In questo caso si parla di un ager nomentanus, cioè di un campo, di un campicello, che si trova nell'antica Nomentum, città non molto distanti in realtà da Roma. Perché se ne parla? Perché per il nostro Marziale è una valvola di sfogo questo campo. Vediamo perché. Il primo verso della poesia è una domanda. Quid mi reddat ager queris linee nomentanus? Linee, olino. Queris, mi domandi, che cosa? Quid reddat mi ager nomentanus? Che cosa mi renda, che cosa mi produca, ager nomentanus? Il mio campo che si trova a Nomentum? Risposta nel verso 2. Oc mi reddit ager, te linee non video. Questo mi rende il campo, dice Marziale. Ed ecco il fulmene in clausola, la battuta finale. Te linee non video. Il fatto, olino, che io non ti vedo. Cioè quando sono in campagna posso stare tranquillo e per un po' di tempo non ti vedo. Grazie a tutti per l'attenzione. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e se potete sostenete nella crescita con un super grazie o con un abbonamento. Grazie a tutti e al prossimo video.